salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video un grande passo avanti per quanto riguarda l'aggiornamento di una nuova era Apsan questo è lo slogan con cui Apsan ha pubblicato o meglio ha rilasciato alcune foto con appunto questa dicitura in cinese che ho tradotto con google quindi il significato dovrebbe essere più o meno questo e dove si intravede questo nuovo drone non ho fatto in tempo a rilasciare ieri il video del diciamo nuovo drone di casa dji il nuovo dji mini 3 questa nuova versione un po più economica per quanto riguarda il drone di casa dji che subito sono qua a fare un nuovo video per un nuovo drone sì perché Apsan ha rilasciato queste foto in cui si vede appunto una sorta di Apsan zino mini pro perché l'estetica è uguale a lui da punto di vista delle forme ma con una grafica più accattivante perché è color carbonio e ragazzi questo drone dovrebbe avere delle caratteristiche davvero interessanti sapete che io ho un odio amore con Apsan perché comunque apprezzo tantissimo il marchio Apsan perché sta cercando di darci dei prodotti di altissimo livello mantenendo dei prezzi molto più bassi rispetto a dji ovviamente Apsan ha come pecca il marketing quando si tratta di marketing fa dei scivoloni incredibili ed è questo che mi fa veramente incazzare di Apsan mentre per quanto riguarda i suoi prodotti sta raggiungendo livelli davvero alti e ragazzi valutiamo una cosa che non è facile cercare di darci dei prodotti come in questo caso l'Apsan zino mini pro un drone che io tuttora sto portando sul canale perché è un drone che apprezzo tantissimo ma capite che cercare di darci un drone completo per quanto riguarda le funzioni le caratteristiche è un drone performante in tutto cioè un drone valido mantenendo un prezzo diciamo molto più basso rispetto a dji non è facile sarebbe molto più facile per Apsan produrre un drone farlo pagare tanto e darci tanto sicuramente sarebbe più facile per un'azienda fare questa scelta di mercato dal punto di vista del dare un prodotto competitivo ma quello che c'è da apprezzare di Apsan in questo momento è la volontà di darci dei prodotti validi che si avvicinino a quelli dji per quanto riguarda le caratteristiche e la qualità del prodotto però mantenendo un prezzo basso e sicuramente ragazzi non è facile perché anche dji secondo me se dovesse darci un drone da 500 euro con le caratteristiche di dji mini 3 secondo me farebbe fatica anche dji e questa è la mia opinione è molto più facile ovviamente produrre un drone tecnologicamente avanzato facendolo pagare tanto quindi potendo dare dei componenti costosi perché comunque il drone costa tanto questa è la mia opinione quindi è questo che a me piace di Apsan e questo nuovo prodotto che sta per arrivare sul mercato perché dovrebbe essere imminente non vi posso dire di più anche se so molto di più di questo perché ho il segreto professionale quindi non posso dirvi tanto di più di questo però vi dico solo una cosa la dicitura un grande passo avanti per un aggiornamento dell'era Apsan dovrebbe farvi intuire davvero tanto però non posso dirvi di più una cosa che però vi posso dire che questo drone che vedete qua nella foto color carbonio così accattivante sicuramente dal punto di vista estetico lo vedrete qua sul canale quindi se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi così non vi perderete sicuramente la prova di questo drone di casa Apsan quindi ragazzi questo era solo un piccolo video informativo per informarvi dell'arrivo di un nuovo drone anche per quanto riguarda Apsan è sicuramente un drone diciamo a differenza di dji che sta per portare diciamo una versione più economica del suo dji mini 3 qua probabilmente sarà un drone più avanzato perché comunque Apsan ha già rilasciato le versioni di lui diciamo l'off costa con l'Apsan Zino Mini SE e con l'Apsan Mini quindi ragazzi non resta che aspettare e detto tutto questo se questo mio video informativo vi è piaciuto e vi è stato utile lasciatemi un grosso pollice su seguitemi anche su Instagram dove porto tante novità spoiler dei prodotti, spoiler delle novità tantissimi spoiler delle location dove vado a far volare tutti i miei droni quindi tantissime cose arrivano su Instagram sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni ma tutta la tecnologia in generale ragazzi arriva lì come coupon sconto come prodotti scontati direttamente scelti da me ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità come sarà questo nuovo drone di casa Apsan che vedrete qui sul canale ciao e al prossimo video